Associazione a delinquere finalizzata al compimento di rapine con pistole e taglierini e tentata rapine in concorso ad istituti di credito nella provincia di Campobasso e nel resto del territorio nazionale. Queste le accuse a vario titolo a carico di cinque uomini e due donne di origini molisane e campane tra i 25 e i 57 anni. In tre sono finiti in carcere, due agli arresti domiciliari con controllo elettronico e infine due divieti di dimora nel capoluogo. Le indagini svolte dai carabinieri hanno avuto inizio a seguito di un primo fatto delittuoso a Ferrazzano, di lì la scoperta di nove episodi attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, pedinamenti e perquisizioni. I sette indagati coinvolti nelle rapine all'ufficio postale di Ferrazzano, il 14 aprile 2014, alla Banca Popolare delle province molisane di Campobasso il 23 luglio, all'Unicredit, sempre del capoluogo, il 28 agosto, al furgone portavalori dell'istituto di vigilanza Aquila a Campobasso il 27 ottobre e nelle tentate rapine alla Popolare di Ancona, sempre nel capoluogo il 15 settembre dello stesso anno, ed ancora la Banca delle Tururia a Perugia lo scorso 9 gennaio, alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata di Campobasso il successivo 26 gennaio e ancora alla Popolare di Novara di Termoli il 6 marzo di quest'anno. I militari sono dapprima risaliti a due degli autori della rapina a Ferrazzano e poi agli altri. Il modus operandi è stato delineato nel tempo dagli inquirenti. I malviventi individuavano gli obiettivi in tutta Italia indicandoli per eludere le intercettazioni come appartamenti da rifare o la signora da cui tinteggiare. Non essendo gli stessi addetti ai lavori sono emersi subito i cattivi affari. Per lo svolgimento delle azioni sono stati usati walkie-talkie ma nulla è sfuggito ai carabinieri. Lo scorso marzo i primi arresti ad irrompere armati negli istituti di credito i campani. La banda soggiornava in genere alcuni giorni nella località presa di mira per effettuare sopralluoghi e scansare controlli. Tutti i dettagli dell'operazione denominata la sfida sono stati illustrati oggi al comando provinciale dei carabinieri di Campobasso. Grazie a tutti.